cari amici e cari amiche di ciclo web della vuelta a spagna innanzitutto permettetemi di ringraziare di cuore l'amico Giorgio che su facebook commentando il mio video di ieri sera stamattina ha scritto lei è una lagna mi ha fatto ridere moltissimo questa cosa e quindi stasera devo essere un po' più frizzante rispetto a ieri anche per insomma compiacere e per smentire Giorgio e beh mi viene facile oggi perché ho gli occhi pieni ancora della bellissima impresa di Tadej Pogacar che mi ha entusiasmato con questo suo attacco negli ultimi 39 km della ventesima tappa tappa che chiude le ostilità di fatto della vuelta 2019 domani c'è la passerella per velocisti a Madrid la vuelta la vince Roglic ma lo sapevamo già da giorni e Pogacar con questa sua impresa di oggi ha centrato tutti gli obiettivi possibili alla sua portata ha vinto la tappa appunto ed è la terza impresa insomma importante questa ha scalato la classifica arrivando sul podio è anzi quasi quasi risale fino al secondo posto Valverde salva il secondo posto per 22 secondi e strappa la maglia bianca di miglior giovane a Miguel Angel Lopez ora voglio proprio soffermarmi sul confronto tra Pogacar e Lopez basandomi su una frase che ha detto il colombiano dopo la tappa Lopez cosa ha detto ha detto alla fin fine probabilmente è anche giusto che la maglia bianca la vinca un ragazzo di 20 anni piuttosto che io che ha 25 anni rispetto a questi giovani mi sento quasi un vecchietto e lui l'ha detta così tra il serio e il faceto però ha detto una grande verità perché insomma dobbiamo anche renderci conto che la classifica di miglior giovane mette di fronte ragazzi alle prime armi con corridori già affermati che già da anni sono nel world tour nel professionismo ai massimi livelli hanno già vinto tanto quindi forse bisognerà abbassare un po' l'età per cui vale la competizione dei giovani nei grandi giri però insomma di Lopez che dire oggi ha provato ad attaccare ma i suoi attacchi non hanno fatto male come in altre situazioni dice di aver patito un po' anche la caduta di ieri però se noi facciamo un discorso generale e andiamo a guardare i risultati di quest'anno del colombiano ci rendiamo conto che c'è una flessione cioè lui a 25 anni non voglio dirlo ma rischia di avere già fatto di aver già dato il meglio di sé in passato quest'anno ha fatto settimo al giro chiude al quinto posto la vuerta l'anno scorso ha fatto terzo in entrambi questi grandi giri ha vinto in entrambi la classifica dei giovani va bene alla vuerta non c'era la classifica dei giovani però è stato lui il miglior giovane e quest'anno invece l'ha vinta sia al giro ma è una magra consolazione proprio per quello che ho detto prima a 25 anni la maglia bianca non può essere un obiettivo soprattutto se l'hai già centrato in passato e Lopez rischia di trovarsi in un'età di mezzo di stare di rappresentare una generazione di mezzo tra i trentenni e ultra trentenni che hanno dominato la scena fino all'altro giorno e questi ventenni terribili che si stanno prendendo a viva forza il centro del palco e tutti i riflettori Bernal ha vinto il Tour de France Pogacar ha fatto questa bellissima vuelta altri ne verranno perché poi non c'è mai un ultimo emergente c'è sempre un penultimo perché ce n'è un altro che emergerà domani in questo 2019 ci stiamo veramente esaltando da questo punto di vista quindi Lopez insomma deve fare un po' di ordine nelle proprie idee nei propri pensieri per capire dove vuole andare la stana ha puntato forte su di lui e non vorrei che fosse un azzardo magari non vorrei che il ragazzo avesse già intrapreso la parabola discendente però c'è una cosa qualche giorno fa vi dicevo che c'è una vita privata dei corridori di cui noi non sappiamo molto sappiamo quasi nulla che incide molto più di quanto non pensiamo quest'anno Lopez è diventato padre quindi ci sta che possa essere stato distratto positivamente in bene ovviamente da questo evento e che magari non abbia avuto la stessa costanza non per mancanza di volontà ma per forza di cose insomma quando stai diventando padre ci sono mille impegni a cui far fronte e quindi può essere che non si sia allenato in maniera perfetta come magari aveva fatto l'anno scorso l'anno prossimo avremo la riprova e vedremo se Superman tornerà a essere appunto un super eroe del ciclismo oppure se si dovrà accontentare di traguardi minori nel frattempo comunque da dietro questi ragazzi incalzano e tutti devono fare i conti con questa generazione incredibile io vi saluto vi do appuntamento a domani con il gran finale di questa volta 2019 ciao da ciclo web